Ma come godo, ma come godo, ma come godo! Cari amici del Passo della Cisa, voi pensate che io sia triste per voi? Ma assolutamente no, ma assolutamente no! Perché noi lo scorso sabato l'abbiamo preso in quel posto, grazie all'arbitro Kiffi e a quelli che erano al Va, che ci hanno fatto beccare il gol di Duca in fuorigioco totale, non hanno visto un cazzo e noi abbiamo perso due punti. Adesso i due punti li avete persi voi, probabilmente immeritatamente, però sta di fatto che noi ci siamo ripresi quello che ci aspettava e sinceramente siamo ancora in credito di quei due punti che ci hanno rubato la scorsa partita. Benvenuti ragazzi, ben ritrovati a questo post partita di Spezia Parma, Spezia Parma, in cui facciamo un grande applauso a quel ragazzo qua, questo di qua, sempre lui, a parte le righine, devo mettere a posto la stampante, ma grazie Mutigno! Mutigno e rassegnazione, come dice l'anteprima, la miniatura. Quindi amici di Spezia, oggi non siete pepati, non ce l'avete fatta, a metà ce l'ha in quel posto, ma ve l'abbiamo messa in quel posto noi. Ringraziamo il vostro campione, Mutigno, che è diventato Ronaldinho e ha fatto un bellissimo gol nella sua porta. Grazie Mutigno! Baci, 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 carezze! Ti ringraziamo tanto per questi tre punti che ci siamo cuccati. Allora, detto questo, detto questo, allora, la partita del Parma, il primo tempo, ha fatto cagare abbastanza, nel senso che non si è visto quasi niente, perché, c'è da dire, Spezia, diciamo, ci ha surclassati, perlomeno sul piano fisico, e il Parma, vista anche l'assenza di Bernabè a centrocampo, diciamo, non riusciva a tenere mezzo pallone, buttava su lungo, azioni un po' così, destra e sinistra, ma niente di che, sotto il profilo dell'attacco vero, ma, fra l'altro, scusate, lo Spezia, ok, aveva segnato due gol, ma se sono due gol irregolari, c'è, nel senso, ok, vi sono stati annullati due gol, e allora, se fuorigioco, è fuorigioco, cioè, se rigore è rigore, se gol è gol, se attraverso e attraverso, se palo o palo, in poche parole, se c'è fuorigioco, Kouda ha fatto due gol irregolari, e non potete mica certo lamentarvi, l'unica, sul tiro di Esposito, che ha fatto uno stop, che non si sa neanche come ha fatto a farlo, su una mina di un suo cross forte, la stoppata di tacco in una maniera splendida, poi è andato a colpire la traversa, quindi questa è l'unica vera azione, su cui, cari amici del Passo della Cisa, potete recriminare, per il resto, per il resto, assolutamente no, perché, allora, prima di tutto, il secondo tempo è stata tutta un'altra cosa, nel senso che, è stato molto più bello, perché al primo tempo non si è visto niente, lo spezia qualcosa di più, ma tutti i gol in fuorigioco, o azioni, diciamo, di qua e di là, ma era più che altro, come ha detto anche Pecchia, in conferenza stampa, non c'è stato il gioco tecnico del Parma, c'è stato solamente un, diciamo, fare il gioco dello spezia, quindi azioni, diciamo, batti, ribatti, campanili, eccetera, quindi non c'è stato gioco, il Parma è stato soccorsato sul piano fisico, e quindi, non si è visto niente di bello il primo tempo, diverso il secondo tempo, perché il secondo tempo è entrato Bernabè, no, e poi, quando è entrato Bernabè, e è uscito Miaila, per fortuna, è uscito Miaila, è entrato Partipilo, il Parma è diventato un'altra cosa, io capisco Pecchia, che adesso c'è anche la Coppa Italia, che un po' ci rompe i coglioni, perché sinceramente, io lo so che vado a beccare su con la Fiorentina, poi magari se invece giocano le Scamorze, magari c'è anche una speranza, però, sinceramente a me mi interessa il campionato, anche a me, e niente, quindi, volevo dire che, il secondo tempo è stata tutta un'altra cosa, ma tutta un'altra cosa, il Parma nel finale ha fatto 20 minuti, in cui, porca di quella vacca, non riusciva a entrare la palla dentro, il portiere ha fatto una parata miracolosa, quando c'è stato un triangolo, fra Bernabè, è il tiro finale di Charpentier, non angolatissimo, ma normalmente otto volte su dieci, quello è gol, invece ha fatto una grande parata, e niente, tiro di Menn, tiro della distanza di Hernani, e niente, non andava dentro, un plauso anche a dichiara, perché devo dire che questa partita, sei stato il dichiara che ci si aspettava, cioè nel senso che questa partita, non mi hai fatto rimpiangere Ansaldi, e quindi vuol dire tutto, hai spinto tutta la partita, recuperato un casino di palloni, fatto dei gran bei cross, quindi devo dire, cerca di essere più costante, perché se giochi così, diventi titolare, sicuro, però devi giocare sempre così, non che una partita, giochi solo in difesa, e quell'altra fai il fenomeno, devi impegnarti in tutti, e spingere, andare sul fondo, questa partita sei stato veramente determinante, come in fase di spinta, ecco, comunque, l'ingresso appunto di Bernabè, l'uscita di Mijla, entrata di Partipilo, ci ha favoriti, abbiamo fatto un finale tambureggiante, in cui non si sa perché, non riuscivamo a segnare, diciamo che ci manca un po' quella finalizzazione, proprio, diciamo, l'ultimo passaggio, a volte ci manca veramente l'ultimo passaggio, e niente, e non entrava, alla fine, è entrata proprio la fine, l'ultimo secondo, l'ultimo respiro, quando, quando, il nostro attaccante ha giunto, Mutigno, è diventato Ronaldinho, e l'ha buttata dentro di testa, nella sua porta, quindi, lo ringraziamo, all'ultimo secondo, vincere così, mi fa godere come un riccio, all'ennesima potenza, e, e niente, quindi, questo è, io, direi che non ho diventato da dire, se non che, il Parma, a mio avviso, allora, dire che è in calo, forse è eccessivo, anche se qualcuno l'ha detto, sicuramente, non è quel Parma, che siamo abituati, a vedere, segnare, nel primo tempo, subito nel primo quarto d'ora, e giocare, una bella partita, sia il primo tempo, che il secondo, adesso, abbiamo preso, il brutto andazzo, di, il primo tempo, lo dobbiamo buttare nel cesso, perché, tre partite, tre primotempi, buttati nel cesso, in cui, rischiamo poi, anche di beccare gol, ovviamente, come conseguenza, perché se non fai un cazzo, gli avversari, poi si esaltano, e dicono, ma questo è il Parma, è una merda, allora, aspetta un attimo, che faccio qualcosa anch'io, attacco, e magari, faccio gol, quindi, non lasciamo per favore, il primo tempo, gli avversari, perché già tre partite, che lo facciamo, tre, mica una, e quindi, questa cosa qua, vuol dire che il Parma, è un pochettino in calo, il secondo tempo, invece, devo dire, che stiamo giocando, sempre, abbastanza bene, il finale, sempre, molto bene, e quindi, cerchiamo di migliorare, di ritornare, col Palermo, adesso la Fiorentina, vada come vada, giochiamocela, godiamocela, in serenità, questa Coppa Italia, sinceramente, non dobbiamo, certo, pensare alla Coppa Italia, noi dobbiamo pensare, andare, la prossima partita, col Palermo, in casa, adesso non ricordo, se è sabato o domenica, ma poco importa, quindi, Parma, Palermo, quella, quella, deve essere una vittoria, oggi, mi dovete portare in Serie B, come diceva, Lucarelli, invece, io vi dico, oggi, la partita Parma, Palermo, che sarà la prossima settimana, il motto sarà, oggi, dovete fare i tre punti, assolutamente, non c'è, non c'è, scusante, bisogna fare i tre punti, e riprendere il percorso, perché, se no, il Venezia, è sempre lì, ok, e quindi, teniamo duro, non molliamo adesso, cerchiamo di arrivare a Natale, fare felici i tifosi, magari, essere campioni d'inverno, anche insieme a Venezia, piuttosto che niente, facciamolo pure insieme, ma cerchiamo di rimanere lì, ok, quindi, un Parma così così, però, grazie, grazie amico, grazie amico, io non so come cazzo ti senti adesso, secondo me è un po' di merda, però, dai, ne è valsa la pena, regalare, a noi, del Parma, finalmente, i punti che ci hanno rubato, la scorsa partita, quindi, un saluto a tutti, un saluto, un saluto dal mago, la magia sia con voi, sia con voi sempre, e iscrivetevi, 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 e abbonatevi, lasciate un grazie, fate quel cazzo che volete, ma fate qualcosa, commentate, condividete, boh, buona domenica a tutti, forza Parma, ciao!